Dato n appartenente ai naturali, si definisce fattoriale di n il numero, indicato con n e un punto esclamativo, che è uguale a 1 se n è uguale a 0 ed è uguale al prodotto dei numeri naturali da n fino ad arrivare ad 1 se n è diverso da 0. Facciamo un esempio e calcoliamo i fattoriali di 5 e 10. Il fattoriale di 5 è uguale al prodotto dei numeri naturali da 5 fino ad 1. 5 per 4 per 3 per 2 per 1. Il risultato è 120. Il fattoriale di 10 è uguale al prodotto dei numeri naturali da 10 ad 1. Il risultato è 3.628.800. Come si può vedere il fattoriale cresce molto rapidamente. Il fattoriale ha un significato pratico importante. È uguale al numero dei modi in cui si possono ordinare n oggetti distinti. Vediamo un esempio e calcoliamo quanti sono i possibili ordinamenti degli elementi dell'insieme A, formato dai numeri 1, 2 e 3. Il numero dei possibili ordinamenti è uguale al fattoriale di 3, perché questo insieme è composto da 3 elementi. Il fattoriale di 3 è uguale a 6, e 6 sono i possibili ordinamenti degli elementi dell'insieme. Un concetto definito sfruttando il fattoriale è quello di coefficiente binomiale. Dati due numeri naturali n e k, con k minore o uguale a n, si definisce coefficiente binomiale il valore così indicato. Si legge n su k, uguale a n fattoriale fratto k fattoriale per n meno k fattoriale. Vediamo subito un esempio e calcoliamo il coefficiente binomiale 10 su 7. Questo è uguale a 10 fattoriale fratto 7 fattoriale per 10 meno 7 fattoriale, che è uguale a 3 fattoriale. Potremmo provare a calcolare il valore del coefficiente binomiale, che è sempre un numero intero, sviluppando i fattoriali di 10, 7 e 3, ma sarebbe un lavoro piuttosto lungo e complicato. Inoltre, una calcolatrice può dare un errore quando si svolgono calcoli di questo genere, perché il fattoriale può essere un numero molto grande. Possiamo scrivere 10 fattoriale come 10 per 9 per 8 per 7 fattoriale. Questa è la definizione ricorsiva del fattoriale, che ci dice che il fattoriale di n è uguale ad n per il fattoriale di n meno 1. Infatti, 7 fattoriale nasconde il prodotto dei numeri naturali da 7 fino ad 1. Ora possiamo semplificare i 7 fattoriale. 3 fattoriale è uguale a 3 per 2 per 1. Facciamo le ultime semplificazioni e poi calcoliamo il risultato finale. 10 per 3 per 4 è uguale a 120. Anche il coefficiente binomiale, così come il fattoriale, ha un significato pratico. Infatti, n su k è uguale al numero di sottoinsiemi formati da k elementi scelti da un insieme di n elementi. Non è importante l'ordinamento, e questo vuol dire che due sottoinsiemi si intendono uguali se sono formati dagli stessi elementi, anche se questi sono ordinati in modo diverso. Un esempio pratico è quello del calcolo degli ambi che si possono formare con i 90 numeri dell'8. Questi sono uguali a 90 su 2, che è uguale a 4005. Vediamo ora alcune proprietà del coefficiente binomiale utili nella pratica. n su 0 è uguale a n su n uguale a 1. Questa proprietà è facile da dimostrare applicando la definizione di coefficiente binomiale. È facile rendersene conto anche pensando a cosa indica il coefficiente binomiale nella pratica, cioè il numero di sottoinsiemi di k elementi presi da un insieme di n elementi. Il numero di sottoinsiemi di 0 elementi è soltanto 1, l'insieme vuoto. Il numero di sottoinsiemi di n elementi è soltanto 1, l'insieme stesso. La seconda proprietà dice che n su k è uguale a n su n meno k. Per dimostrarla, applichiamo la definizione. In parentesi quadre abbiamo, dopo aver tolto la tonda, n meno n più k, e rimane soltanto k fattoriale. Questa espressione è quella di n su k. La terza proprietà ci dice che n su k è uguale al prodotto di k fattori a partire da n, tutto fratto k fattoriale. 6 su 2 è uguale a 6 per 5, due fattori, fratto 2 fattoriale. La quarta proprietà ci dice che n su k è uguale a n meno 1 su k meno 1 più n meno 1 su k. Questa proprietà è alla base della costruzione del triangolo di Tartaglia, che si usa per determinare i coefficienti dello sviluppo della potenza di un binomio. Dimostreremo questa proprietà in uno degli esercizi che svolgeremo nella parte pratica. A proposito di potenza di un binomio, il coefficiente binomiale è alla base della formula del binomio di Newton, che è utilizzata per calcolare la potenza di qualunque esponente di un binomio. La formula dice che a più b elevato n è uguale a sommatoria per k che va da 0 ad n, di n su k per a elevato n meno k per b elevato k. Applichiamo la formula per risolvere questo esercizio, in cui ci viene chiesto di calcolare il coefficiente di x alla sesta y nello sviluppo di 2x più 3y alla settima. Nella formula sostituiamo ad a e b rispettivamente 2x e 3y, n è uguale a 7. La parte letterale x alla sesta y si ottiene per k uguale ad 1. Per calcolare il coefficiente che ci interessa, sostituiamo questo valore di k nella formula. Il coefficiente binomiale 7 su 1 è uguale a 7. Infatti, i sottoinsiemi di un solo elemento presi da un insieme di 7 elementi sono 7. Ora si tratta di svolgere dei semplici calcoli. Il risultato è 1344x alla sesta y e il coefficiente che ci interessa è 1344. Svolgiamo ora alcuni esercizi per fare pratica con i concetti che abbiamo introdotto. Il primo è un'equazione con i coefficienti binomiali. Per risolverla dobbiamo applicare la definizione x su 2 è uguale a x fattoriale fratto 2 fattoriale per x meno 2 fattoriale. A secondo membro abbiamo 3 per x meno 1 fattoriale fratto 3 fattoriale per x meno 1 meno 3 fattoriale. A primo membro a denominatore abbiamo 2 risultato del fattoriale di 2 per x meno 2 fattoriale. A numeratore possiamo usare la definizione ricorsiva del fattoriale per scrivere x fattoriale come x per x meno 1 per x meno 2 fattoriale. Ci fermiamo ad x meno 2 fattoriale perché ora possiamo semplificare i fattori comuni e liberarci dei fattoriali. Semplifichiamo anche i due. Facciamo lo stesso anche a secondo membro. A denominatore abbiamo 6 risultato di 3 fattoriale per x meno 4 fattoriale. A numeratore scriviamo x meno 1 fattoriale come x meno 1 per x meno 2 per x meno 3 per x meno 4 fattoriale. Semplifichiamo i fattori x meno 4 fattoriale e poi 3 con 6. Ora non abbiamo più fattoriali. Possiamo semplificare ulteriormente l'espressione. Infatti, sia a primo che secondo membro è presente il fattore x meno 1 e possiamo cancellarlo. Questo equivale a dividere entrambi i membri per x meno 1 e possiamo farlo perché siamo sicuri che questo fattore è diverso da 0. Infatti, questa equazione ha significato quando x è maggiore o uguale a 2 e x meno 1 è maggiore o uguale a 3. Quindi quando x è maggiore o uguale a 4. Questo perché il coefficiente binomiale è definito, come abbiamo visto in precedenza, quando n è maggiore o uguale a k. Possiamo liberarci di x meno 1. Moltiplichiamo entrambi i membri per 2 per togliere la frazione. Svolgiamo le moltiplicazioni a secondo membro usando la proprietà distributiva. Ora trasportiamo 2x a secondo membro cambiato di segno e poi facciamo le operazioni tra termini simili. Possiamo riscrivere l'equazione scambiando i due membri. Abbiamo ottenuto un'equazione di secondo grado che possiamo risolvere scomponendo il trinomio con la tecnica del trinomio notevole. Dobbiamo trovare due numeri il cui prodotto è 6 e la cui somma è meno 7. Sono meno 1 e meno 6 e allora possiamo scrivere il trinomio a primo membro come prodotto di x meno 1 e x meno 6. Ora è facile ricavare le soluzioni perché queste sono i valori che annullano i due fattori. Otteniamo x uguale 1 e x uguale 6. La prima soluzione non è accettabile perché dobbiamo considerare la condizione di esistenza dell'equazione, x maggiore o uguale a 4. In conclusione, l'unica soluzione di questa equazione con coefficienti binomiali è x uguale 6. Nel secondo esercizio dimostriamo la proprietà di cui abbiamo parlato in precedenza. Per farlo svilupperemo il secondo membro fino ad ottenere un'espressione uguale a quella a primo membro. Applichiamo la definizione per scrivere per esteso i due coefficienti binomiali. Il primo è uguale a n-1 fattoriale fratto k-1 fattoriale per n-1 meno k-1 fattoriale. Il secondo è uguale a n-1 fattoriale fratto k fattoriale per n-1 meno k fattoriale. Fra parentesi quadre abbiamo, dopo aver tolto le parentesi e cambiato i segni, n-1 meno k più 1. E ciò che rimane è n-k. Dobbiamo sommare queste due frazioni e quindi dobbiamo calcolare il minimo comune multiplo. Per semplificarci la vita, possiamo riscrivere questi due fattori utilizzando la definizione ricorsiva del fattoriale. n-k fattoriale è uguale a n-k per n-k meno 1 fattoriale, mentre k fattoriale è uguale a k per k meno 1 fattoriale. Il minimo comune multiplo è k per k meno 1 fattoriale per n-k per n-k meno 1 fattoriale. A numeratore si ottiene k per n-1 fattoriale più n-k per n-1 fattoriale. Raccogliendo n-1 fattoriale, otteniamo tra parentesi k più n-k. k e meno k si possono cancellare, così da ottenere questa espressione. Ora ci basta notare che, in base alla definizione ricorsiva del fattoriale, n per n-1 fattoriale è uguale a n fattoriale. k per k meno 1 fattoriale è uguale a k fattoriale. n-k per n-k meno 1 fattoriale è uguale a n-k fattoriale. L'espressione che abbiamo ottenuto è proprio quella del coefficiente binomiale n su k, e abbiamo così dimostrato la validità della proprietà. Il fattoriale e il coefficiente binomiale hanno un ruolo importante nel calcolo delle probabilità, argomento di cui parlo in questo video. Vi invito a iscrivervi al canale e mettere un like al video e vi auguro buon proseguimento e buono studio.